potrebbe sembrarvi un quadro un ritratto questo sole che squarcia questo tiglio invece ci troviamo alla lacina e il 9 luglio del 2024 sono da poco le 20 sono venute a camminare nella speranza di rivedere i faggiani ma nemmeno l'ombra quindi sicuramente sono stati liberati in questi giorni dovevano esplorare il territorio adesso si saranno spostati in altre zone ricordate però che questi uccelli faggiani amano stare in spazi aperti perché possono volare subito possono vedere nemico invece nelle felci sono più facili da predazione per volpi e mustelli di come la martora la faina e altri animali insomma i tassi diciamo no perché sono onnivori ma non prediligono diciamo carne più uova altri diciamo vegetazione in generale frutta bacche infatti dei tassi voi conoscete la specie canina e la specie torcina si differenzia dal muso sullo sfondo i campanacci musica per le orecchie di chi come me ama la montagna relax puro venire alla lacina se amate la montagna è davvero un ristoro per l'anima e la mente qua in mezzo alla natura al silenzio ci veramente si riscopre se stessi ci si mette a confronto a confronto nudi e crudi con la propria realtà si riflette sui propri errori io vengo qua vi dico la vita per rilassarmi camminare alla lacina non perde pezzare serra san bruno molti mi dicono ma perché non viene assenta male del bosco perché lì è pieno di zanzare mosche non c'è una fontana è bello sentirlo fra stati ma mai quanto la lacina la lacina non ci sono insetti che ti pungono mosche e zanzare eppure pieno di mucche e soprattutto è pieno di fontane quindi quando hai voglia di bere una bevuta d'acqua fresca e si ritorna poi fare sport guardate in diretta ci sono le farfalle carbonaie le chiamano così sono nere e appua e qui intorno al lago ci sono tutti questi appezzamenti queste distese collinari bellissime fresate da dove poi creano i balloni per gli animali da fattoria per l'inverno perché in estate brugano l'aria aperta in inverno invece se c'è neve o brutto tempo hanno bisogno di cibo e quindi si ci si mette all'opera anche per loro no e poi tanti motociclisti alla scoperta di questi nuovi territori li vedo passare rallentare guardare il lago chiedere informazioni ma come si arriva come non si arriva ecco il lago mi auguro che il palco della sera faccia qualcosa in futuro come già scritto e visto su vari articoli di giornali il lago possa essere uno sbocco turistico come appunto dicevano con barca a vela canoa eccetera eccetera per valorizzare tutto il contesto che c'è intorno che è stupendo è abbastanza selvatico voi pensate che dal lago della lacina vedete questa montagna di fronte si chiama la fontana di schiminzi da qua si arriva ai piani della pomara si arriva a pecoraro si può andare alla fardinandea si può andare in parecchi posti anche a serra direttamente dalla lacina tutto collegato adesso non so quanti chilometri siano se 15 o 20 linea d'area per arrivare alla casa cantoniera però è un mondo selvatico dove veramente gli animali si sentono a casa in questo mondo c'è solo elce della vecchia a 20 minuti da qua poi è tutto aree boscate non ci sono abitazioni se qualche stalla o rudere di qualche contadino montanaro ma se no è tutta natura salvatica quindi investire non dico con costruzione villaggi ma con percorsi di trekking percorsi per gli appassionati di bikers quindi biciclette da montagna funghi percorsi a cavallo c'è un mondo nuovo da scoprire la calabria è vergine rispetto alla sicilia rispetto ad altri posti ma in particolare le serre tra la spromonte e la sila ma se voi avete mai notato per esempio al meteo della rai dicono su sila spromonte pollino tempo stabile piogge non dicono mai le serre come se non esistessimo ma in realtà facciamo parte della sila e della spromonte siamo a metà al centro nel cuore della calabria montagne vergini spopolate montagne che hanno tanto da raccontare ma soprattutto da dare in autunno in estate c'è sempre qualcosa da fare in montagna e io rispetto a montepecoraro che è anche un bel posto la ferdinandè eccetera eccetera con le sue cascate prediligo la lacina perché guardate alle mie spalle qui c'è un ampio panorama puoi vedere tutto una grandissima pianura con un lago guardate la mia ombra si vede che sono dimagrito eh sono più longilineo sembro un lampione della luce una volta sembrava una damigiana coi piedi comunque a parte questo mio umo improvvisato guardate si vede una grande pianura con i pascoli erba sempreverde campi fresati il lago quindi il panorama è davvero diversificato io amo i posti spaziosi dove non ti senti soffocare dove non ti senti chiuso dove veramente la tua mente può alzarsi in volo come un falco pellegrino sul lago quindi la lacina è un posto da valorizzare oggi sono ritornato con la speranza di vedere faggiani e farvi vedere magari i cinghiali ancora o la volpe perché ieri prima che mi incontrassi con i numeri uno la ditta pro copio che saluto in questo punto qua in fondo c'era una volpe stupenda certo di noi c'è ancora la voce viva di un ruscello poco fa abbiamo visto di nuovi faggiani infilarsi in questo bosco di conifere dove ci sono cespugli particolari di biancospino di gemme utili al loro sostentamento